Ciao raga, bentrovati sul mio canale youtube, ultimo appuntamento con la situazione diciamo dei giocatori attuali prima dei tots, andiamo a vedere gli attaccanti, come al solito premessona, se manca qualcuno ditemelo nei commenti parliamone, perché sicuramente mancherà qualcuno, ho fatto veramente una fatica in mane a mettere gli attaccanti, perché? Perché? Molti erano già negli esterni, perché ormai davvero, secondo me davanti c'è poca, non lo so, flessibilità, ok? Secondo me si usano sempre gli stessi, quindi vuoi o non vuoi si va sempre lì, i migliori non è che siano cambiati granché, c'è qualche new entry, quindi ce ne andiamo a guardare, però fondamentalmente non calcolando né toti né icon, bene o male i volti sono quelli, secondo me, prima di arrivare ai tots. Quindi andiamoci subito a vedere qual è il primo giocatorino che ci aspetta su questa schermata. Primo giocatorino che ci aspetta su questa schermata è Kylian Bappé. Come vi dicevo in precedenza, spesso e volentieri, la domanda, la diatriba è, chi utilizzo punta tra Bappé e Neymar? Come vi ho detto anche nel video degli esterni, però magari qualcuno se l'è perso, rifacciamo il ragionamento. Come vado a ragionare io tra i due? Se stiamo valutando le versioni base, ok, di Bappé e di Neymar, io tra i due vado a piazzare Neymar da punta sempre, con Bappé magari spostato sull'esterno se si hanno entrambi, o invece se si deve fare una scelta prendo Neymar. Perché? Perché finalizza meglio, nonostante abbia una potenza tiro lievemente più bassa, ma ha 5 di skill. Bappé base, di sinistro, è molto molto carente. Quindi finalizza meglio, si muove anche meglio nello stretto perché è un po' più agile e quindi lo preferisco. Se invece andiamo a parlare di una versione speciale di Mbappé, vado a utilizzare lui punta e Neymar lo vado a mettere magari C.O.C. o lo vado a mettere esterno, visti i suoi passaggi. Perché lo vado a mettere in punta Mbappé? Perché ha una finalizzazione superiore, già a partire da quella che la sua versione Record Breaker, Mbappé, finalizza molto meglio col sinistro, ma proprio tanto. Ed è anche uno di quei giocatori che prende tanta, 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 tanta porzione di campo con il tunnel direzionale. Quindi se dovessi scegliere poi tra una versione speciale, ribadisco, e Neymar base, vado a mettere Mbappé da punta. Perché ha più quel killer instinct, no? Da punta vera all'interno dell'area che secondo me fa la differenza. Così come da punta, secondo me, e non tanto da esterno, merita di essere impiegato Yusef Atal. E vi spiego perché. È un metro e 75, alto normale, 5-5, va bene, tutte cose che, insomma, sappiamo. È velocissimo, ha un'ottima potenza tiro con finalizzazione, ha dei buoni passaggi, è agile, equilibrio e reattivo. Ha un ottimo controllo palla, insomma, quindi stats di dribbling sicuramente al suo posto. Ha anche delle discrete stats difensive, aiutate anche da un'89 aggressività. Quindi questo fondamentalmente, come ci siamo detti, può fare tutto. Però, impiegato da esterno, io l'ho provato, nella prima partita di qualifica che c'è stata due settimane fa, mi ha azzoppato. Perché? Sull'esterno, secondo me, è fondamentale avere dei giocatori che ti prendono campo, ok? Soprattutto quando fate gli speed boost. Questo qui è un giocatore che, per prender campo, a mio avviso non è il top, ok? Perché ha le gambine, è un metro e settantacinque, e in velocità non è che ci va via più di tanto. Cosa che invece cambia, scenario cambia, quando questo giocatore ce lo ritroviamo all'interno dell'area di rigore. Perché? È un anetto, è stra agile, finalizza bene con entrambi i piedi. Ha 5 di skill, quindi ti garantisce imprevedibilità totale al servizio della squadra. Ed è veramente, veramente lì il ruolo, secondo me, offensivo nel quale apprezziamo meglio Atal. Quindi io lo vado a inserire da punta, probabilmente vi dico anche meglio di Mbappé e di Neymar base, ok? E lo reputo uno dei giocatori al momento più interessanti, anche per dare un po' di vivacità ad un reparto avanzato che vede praticamente le stesse facce, come vi dicevo in precedenza. Perché a proposito di solite facce, un giocatore che io credo che non si possa dimenticare quando parliamo di attaccanti è Beyheader. Soprattutto adesso, visto che siamo ritornati a un gioco dove contano i movimenti all'interno dell'area, eccetera, eccetera per cercare di abbabbiare un po' la CPU, Beyheader non può mancare. 4 di skill e 5 di debole, quindi ti dà la possibilità di poterti girare piede destro e piede sinistro praticamente senza differenza. Parliamo di un giocatore che è comunque rapido, anche se è piccolino, quindi non è che è in campo aperto, piotta, chissà che. Però ha un'ottima finalizzazione, ha un buon passaggio corto, che è quello che interessa ad una punta negli scambi stretti, specie in un attacco a due. È agilissimo, ovviamente, un furetto, manco ve lo dico, guardate che stazio agilità c'ha. 96, 94 equilibrio, 91 reattività, 92 controllo palla e dribbling, quindi una carta che sicuramente, insomma, vi dà soddisfazioni quando fate i micromovimenti con le L2 per cercare di liberarvi. E per me è uno dei migliori attaccanti, soprattutto in ottica ibridabilità, eccetera, 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 sicuramente Bayheader deve essere inserito all'interno di questa top, chiamiamola così. Così come all'interno di questa top, ragazzi, una domanda che spesso e volentieri mi state facendo è se Cristiano Ronaldo può ancora circolare nella sua versione base. Ovviamente, qui considerate anche le versioni top, io vi sto mettendo le versioni basiche, insomma, per farvi capire che anche la versione base tuttora è valida, perché parliamo di un giocatore che comunque ha un body type tutto suo, è un metro e 87, ha 5 di skill, ha 4 di piede debole, e nonostante ciò è anche molto agile, perché quest'anno Ronaldo ha avuto un boost, ok? Anche con le levette sinistre per fare i micromovimenti si muove discretamente. Quindi, parliamo di un giocatore che, appunto, vi ripeto, è rapidissimo, finalizza veramente bene, 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 anche col sinistro, anche se qualche volta gli scappa, ma scappa un po' a tutti, e parliamo di un attaccante veramente totale, in Serie A, secondo me, ancora il migliore. In Serie A probabilmente qualcuno storcerà, perché già ve lo dico, non c'è Lautaro, perché, e non l'ho messo neanche negli esterni, perché secondo me è un buon giocatore, ma niente di che, cioè, non è che è il top, ok? Vi inserisco Palasio. Perché vi inserisco Palasio? Parliamone. Palasio era un SBC, costava poco, ok? A 5 di skill, e quel treppiede debole vi assicuro che è la cosa più fake che vedrete quest'anno, perché sul sinistro segna senza problemi. Inoltre, Palasio che cosa c'ha dalla sua? Un body type piccolo, minuto, ok? Diciamo alla Muriel, però rispetto a Muriel è molto più agile, perché non è appesantito dalla forza, e non c'ha quella componente un po' stocchi, ok? Quindi finalizza molto bene, è veloce, ha 5 di skill, è un furetto, pure lui su se stesso si gira e si rigira come una trottola, poi c'ha il codino, non ve lo dico proprio. Quindi Palasio, secondo me, all'interno degli attaccanti di Serie A, attualmente, insieme, diciamo, a Cristiano Ronaldo, se la battagliano un po'. Lievemente dietro di loro c'è Mertens. Perché lievamente dietro di loro? Perché Mertens è 4-4. Quindi non ha il 5 di skill rispetto ai suoi due compagni precedenti, e non ha neanche il 5 di debole, ok? Sì, però ha 4 e Palasio ha 3, vi dico Palasio è fake, va sicuro è fake. Ha delle buone stats, è molto veloce, però anche lui in campo aperto non è che prende questo chissà campo, visto che fondamentalmente parliamo di un giocatore abbastanza piccolino. Abbiamo poi ottime statistiche di tiro, ovviamente, degli ottimi passaggi, anche lui parliamo di furetto, quindi si gira, si rigira, si controgira, eccetera, eccetera, quindi parliamo di un giocatore all'interno dell'area di rigore che vi fa la differenza, e sicuramente è molto interessante. Però, vi ripeto, lo pongo un gradino indietro rispetto a Ronaldo e Palasio, attualmente, il buon Mertens. Qui due volti noti rispetto a quello che è stato il video precedente, rispetto a quello degli esterni, ossia Rashford e Mané. Di questi dobbiamo parlare. Soprattutto di Rashford, perché Mané è un'altra versione, la sua versione Freeze, che parte proprio da ATT. Allora, per quanto riguarda Rashford, c'eravamo detti che, diciamo, è un giocatore di 1.86, quindi quell'agilità 90 in realtà la vediamo appesantita dal suo body type e dalla sua forza, ok? Quindi, comunque, parliamo di un giocatore che è molto valido, visto che ha anche 5 di skill, finalizza bene. Però cede un po' il passo all'interno dell'area di rigore, spesso e volentieri vi può risultare macchinoso al pad, e quindi può diventare facile preda dei difensori che magari vanno dietro, lo anticipano, eccetera, gli tolgono il pallone. Quindi questo, diciamo, che va a inficiare sul Rashford per questo motivo. Infatti, tra i due, io preferisco Mané Freeze. Mané Freeze è praticamente il doppione del candidato Totti, però in posizione di ATT. Quindi, velocissimo, finalizza bene, è agile, devo dire è agile, all'interno dello stretto rispetto al Rashford ci gira molto meglio, in più prende anche bel campo con i vari tunnel direzionali, eccetera, eccetera. Quindi se io dovessi scegliere, sicuramente il buon Mané tra i due, per quanto riguarda una Premier League, è la mia scelta preferita. Poi, per quanto riguarda la Premier, ovviamente, per quanto riguarda il ruolo di ATT puro, c'è una bella carenza. Non vedete Lucas, perché Lucas, secondo me, è un po' overprezzato sotto questo punto di vista. I migliori per fare proprio l'ATT sono quei due. Per quanto riguarda la Liga, anche in Liga c'è veramente una carenza importante di attaccanti. Vi sono andato a prendere sto Morales, perché questo, già quando è uscito, io vi dissi, cavolo, non è male, perché è 1.80. A alto normale, a 4.4, si gira che è una meraviglia, perché è molto agile, è veloce, ha un gran tiro, ha dei buoni passaggi, solo che all'inizio costava veramente un boato di soldi, e allora non valeva la pena. Adesso sta scendendo, quindi se vi serve un ATT di Liga, lui, secondo me, rientra alla perfezione in quelli che sono i canoni attuali del gioco. Sto Morales, molto inflazionato, perché vi assicuro, finalizza bene, non è un giocatore assolutamente da sottostimare. Così come non è un giocatore da sottostimare, Stofati, che tuttavia costa ancora tanto, però parliamo di un giocatore che rispecchia perfettamente il meta attuale, ok? Fatto sta che non c'ha le 5 di skill o le 5 di debole, questa è l'unica nota un pochino dolente, però è 1.78. Velocissimo, una furia. Buon tiro e finalizzazione, passaggi al top, agilissimo, non ve lo devo star neanche qui a far notare, 99-96, 88 di reattività contro l'opala dribbling, tutto quanto eccezionale, per il buon Ansufati, quindi parliamo anche in questo caso di un giocatore validissimo, veramente forte forte forte, e che se vi serve qualcuno in Liga, insomma, lo si può andare a prendere. Onestamente, al momento, io non lo comprerei perché costa tanto e con i tozzi sicuramente uscirà roba, scenderà di prezzo, eccetera, eccetera, però se vi serve un attaccante e sto Ansufati, sicuramente lo vado a inserire. Così come in Bundesliga, io veramente ho fatto fatica, vi ho piazzato sto Royce, magari qualcuno si è stupito nel non vederlo da esterno, eccetera, eccetera, perché ve l'ho voluto piazza a punta, raga? Perché in Bundesliga, per me, vi ripeto, c'è carenza, ha 5 di skill e 4 di debole, c'ha un po' di type un po' ambiguo e 85 di forza, quindi diciamo che non è la creatura proprio più sgusciante nello stretto, però ha statistiche di tiro tanta roba, statistiche di passaggio ok, statistiche di ridilibling che sono buone, vi ripeto, l'unica cosa che va un pochino a inficiare su sto Marcolino Royce è proprio il discorso dello stretto, però è un giocatore che il suo lo fa, probabilmente se l'avete sbloccato, il ruolo dove ha più senso utilizzarlo è di OC OC oppure proprio da punta. Quindi, raga, per quanto riguarda anche questa carrellata sugli attaccanti e tutto, vi ripeto, qui magari ci tengo a sentire le vostre opinioni, perché io ho fatto fatica, avrei dovuto mettere un sacco di giocatori che avevo già messo negli esterni e non l'ho voluto fare, quindi diciamo che per quanto riguarda il ruolo di ATT proprio puro, io ho selezionato questi, fatemi sapere voi che ne pensate, ormai siamo prossimi ai Toz, quindi saremo sommersi da carta che dovremo solamente andare a provare, leccarci i baffi e vedere effettivamente come rendono, e nulla ragazzoni, mi raccomando, come al solito, un like, il commento già ve l'ho detto, in descrizioni le info per le live giornaliere sulla piattaforma viola, un abbraccione e un salutone al vostro Riberoski, bella, ciao raga. Riberoski